Questo è un bellissimo motorhome itineo montato su meccanica Fiat 130, veranda, pannello solare e aria condizionata in cabina. È una pianta molto luminosa e ariosa e molto ben molto abitabile. La parte in coda con due singoli, quindi due letti o la possibilità di avere il letto e alzare diventa un garage. Un bel bagno con doccia, armadio nella parte sinistra, un bel piano cucina e piano di appoggio, bel piano di lavoro e qui una bellissima zona giorno con un bel tavolo e la possibilità di avere il doppio tavolino. Questa è una macchina eccezionale per una famiglia di 4-5 persone oppure anche della coppia che vuole portare con sede e nipotini e avere tanta luminosità e abitabilità centrale con le doppie finestre. Il bello del motorhome è la guida che la cosa eccezionale è proprio stare davanti in cabina e vedere dei panorami che molto spesso non si vedano neanche in macchina. questo è velocemente diventa, si abbassano le poltroncine e diventa il letto matrimoniale, quindi 2, 3, 4, 5, eventualmente un sesto posto qui. Però è una bella macchina da 2-5 persone.